Buongiorno, ben ritrovati per Occhio ai Giornali, sfoglieremo insieme come sempre i quotidiani in edicola quest'oggi, non prima di avere visto però le previsioni del stempo e l'almanacco del giorno, oggi venerdì 12 giugno, la chiesa osserva il Sacro Cuore di Gesù, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.51. Previsioni del tempo partendo dalla nostra postazione meteo, vedete la temperatura subito alta questa mattina al di sopra dei 20 gradi e il cielo terzo senza nubi all'orizzonte, solo qualche velatura. Vediamo cosa ci dicono gli amici della protezione civile, venerdì 12, il cielo si presenta sereno, poco nuvoloso nel transito di nubi medio-alte nella seconda parte della giornata, però precipitazioni assenti e le temperature sono in aumento, vediamo domani sabato, primo giorno del weekend, il cielo è poco, parzialmente nuvoloso per il transito anche qui di nubi medio-alte, vedete però che compare la simbologia della pioggia anche sulla costa, nell'Anconetano principalmente, però insomma il sole non è bello pieno e anche sui rilievi vedete rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio però più probabile nella fascia centrale della regione. Anche le temperature minime sono in aumento, vediamo domenica e la nuvolosità si intensifica, cielo parzialmente nuvoloso, addirittura la simbologia della pioggia si estende al settore meridionale della regione e anche sui rilievi compaiono i lampi, quindi insomma c'è particolare attenzione su questi fenomeni perché rovesci e temporali saranno presenti per quanti si recano in altura. La tendenza nei giorni successivi all'inizio della settimana correnti sud occidentali determinano giornate condizionate da deboli piovaschi, poi a metà della settimana un rapido transito di una saccatura determinerà un peggioramento, come abbiamo visto, un peggioramento in termini meteorologici. Vediamo cosa ci propongono i giornali per quest'oggi, iniziamo dal resto del Carlino. Ieri si sono tenuti appeso i funerali del bambino deceduto. Il padre ringrazia tutti per la vicinanza e l'affetto dimostrato in queste ore così difficili sono stati 20 mesi, tant'è stata la vita del bambino di grandi abbracci. Chiesa gremita, duomo gremito e i genitori hanno deciso, quando hanno capito che non c'era più nulla da fare per l'espianto degli organi ed è una forma anche questa di miracolo. Un'altra questione che riguarda però il corpo dei vigili urbani di Pesero, c'è stata un'iniziativa del comandante Galdenzi che vuole praticamente premiare con un bonus di 600 euro in busta paga chi fa almeno, chi sta a casa meno di 5 giorni all'anno, naturalmente ferie escluse e quindi questa iniziativa però ha sollevato qualche protesta e c'è stata una raccolta di firme tra gli agenti, 61 agenti su 89 hanno firmato e dicono gli agenti sono appunto contro questa iniziativa perché noi assenteisti non è vero e parte la petizione e in 61 l'hanno firmata e poi una postina onesta trova e restituisce una catena d'oro, c'è stato un encomio pubblico per questo suo bel gesto e ancora ahimè purtroppo un ultimo saluto a uno studentessa dell'istituto Mamiani di Pesero della terza A, domani si svolgeranno alle 10 il cimitero di San Decenzio, al cimitero appunto centrale il funerale di Maddalina H, questa 17enne deceduta è il ricordo di tutti i docenti della scuola. Andiamo nelle pagine di Fano del resto del Carlino, in Inghilterra si celebra un importante anniversario, il 75esimo anniversario della battaglia di Inghilterra per il Cosworth Airshow e Fano e una pattuglia di piloti e aerei italiani vola per questa manifestazione per celebrare appunto la battaglia di Inghilterra nei cieli e nell'aeroporto che è il simbolo della RAF dove c'è un museo dell'aviazione bellissimo. Il campo d'aviazione e appunto quello, però il futuro dell'aeroporto resta comunque un problema per il Partito Democratico. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino di Fano per mantenere viva la protesta contro il decreto della buona scuola. Gli insegnanti tornano in piazza, in piazza a Fano e in piazza in 30, una trentina di insegnanti per opporsi alla buona scuola. Vedete qui nel riquadro tutti gli insegnanti radunati con striscioni e cartelloni. Ultima pagina del resto del Carlino che prendiamo in considerazione. Non solo Fano ha terminato il ripasciamento del litorale ma anche a Marotta. Domani finiscono i lavori, sistemazione delle spiagge conclusa però l'appello del vice sindaco appunto di Mondolfo, Alvise Carloni, che era sulla Renile per seguire i lavori. Appello però per le scogliere perché insomma domani a Marotta finiscono i lavori però il problema dell'erosione rimane un problema e quindi il vice sindaco spera nella folta pattuglia di rappresentanza in regione per quanto riguarda la nostra provincia, spero in ceriscioli e in Rapa per interventi a difesa della costa e delle mareggiate. E poi sempre su Marotta, domani il servizio entrerà in funzione, parliamo del servizio di salvataggio, emergenze in mare sono sotto controllo perché c'è anche i volontari dell'OPSA della Croce Rossa di Marotta a vegliare sulla buona prosecuzione della giornata balneare nel litorale di Marotta. Corriere Adriatico, qui con la cultura si mangia, che cos'è? È un rapporto elaborato da Union Camere e dalla fondazione Simbola che praticamente mette al secondo posto, il primo è stato strappato ad Arezzo dove c'è il rapporto tra cultura e occupazione nel settore e quindi un buon risultato per quanto riguarda la provincia di Pesaro che crea occupazione attraverso la cultura e questo è un plus in più che si può mostrare a quanti vengono in villeggiatura o a trascorrere qualche giorno di relax nella provincia di Pesaro. Poi a guastare tutto ci pensano i baby vandali, i baby vandali che imbrattano il Palazzo Ducale, il centro commerciale, sono scattate due denunce, vandali appunto nei guai con spray, con scritte, con pennarelli e quindi insomma sono stati identificati attraverso le telecamere. Ancora dal Corriere Adriatico, però la pagina di Fano, Tombari e la fondazione ancora sotto lente di ingradimento, nell'articolo di Lorenzo Furlani, Tombari il valore è aumentato a 160 milioni, parliamo del patrimonio della fondazione, i conti non tornano perché nel bilancio è invece di 138, gli immobili sociali costituiscono un debito verso la comunità. Ancora dal Corriere Adriatico, Fano, la sanità che non vorremmo, Massimo Foghetti dice appunto la sanità che noi non vorremmo, un fanese si rivolge alla magistratura perché per un attac ha avuto un appuntamento dopo 16 mesi e quindi è un diritto alla salute negato, si è rivolto appunto alla magistratura. Cambiamo testata, l'ultima che guardiamo come sempre nella giornata, nella mattinata, il messaggero di Pesaro, si parla in testa alla pagina di ZTL e auto, così libereremo dalla ZTL dalle auto, a parlare è l'assessore Briglia, poi fotonotizia centrale, l'addio appunto di Edoardo, sei un angelo, veglia su di noi. Il rapporto di Union Camere, anche qui cultura e lavoro di Spalla e a pie pagina il meteo, il meteorologo dice ancora giornate di AFA e quindi questo ci aspetta per il weekend, vediamo, meno auto in centro è un bene per tutti, appunto vi dicevo l'assessore Briglia spiega il piano, lo studio che partirà all'inizio però del 2016 e ai residenti chiederà un piccolo sacrificio per liberare dalla morsa delle auto il centro storico di Pesaro, necessario però completare l'installazione delle telecamere, quindi i varchi per sigillare i varchi ancora aperti e nuove merci anche, nuove regole per l'accesso alle merci. Traffico limitato poi anche al mare, via da domani, qui ci sono tutte le strade e la Confcommercio intanto vuole ridiscutere con la Capitaneria, la chiusura della zona del porto. Ancora scoperti anche qui l'articolo che riguarda i baby vandali al Palazzo Ducale che imbrattano le scritte, frasi che cosa avevano appunto scritto, frasi offensive contro le forze dell'ordine, la religione, ma le telecamere della video sovvenianza hanno firmato il ride e quindi identificati questi sceglierati ragazzi. Fanno l'ultima pagina che guardiamo insieme del messaggero, Osvaldo Scatassi ancora parla dell'Aset, prorogati i verdici all'Aset, ma si prende tempo ancora sulla fusione fissata al 30 novembre, la prossima verifica del vecchio, il consigliere del vecchio è polemico, promesse vane, ma i sindaci dei comuni dell'Interland insistono sulla necessità di accelerare questo processo di fusione. E poi in fondo alla pagina che riguarda Fanno del messaggero, con l'archeo Fanno si aggiorna la pianta storica della città e poi libri di testo, ritardi nei rimborsi. La situazione riguarda 520 famiglie, ma l'assessore Mascarin rassicura sullo stanziamento subito dopo il bilancio. Bene, questa era l'ultima pagina che guardavamo insieme per oggi per la rassegna stampa che tornerà come sempre domani mattina alle 7.30 puntuali e questa sera l'appuntamento con informazione e con occhio alla notizia. Grazie per essere stati con noi e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.